Siamo ai Monti Motti e adesso andremo al Sassariente che si trova su quella cima sull'acqua. Siamo ai Monti Motti. Siamo ai Monti. 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 ai Monti. Siamo 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 ai Monti. Bisogna fare anche un po' attenzione alla neve. E al ghiaccio. Comunque... Comunque adesso è molto fattibile. Una volta non c'erano gradini. Non c'era niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.